Un appalto a Dubai frutterà 28 milioni di dollari, la nuova metro di Milano 1,18 milioni di euro. Sono i numeri dell'IMESA che dal 1972 produce impianti elettrici su misura per grandi opere. Attualmente da lavoro a 230 dipendenti più l'indotto in Italia e Bulgaria, per questo oggi Claudio Andrea Gemma, amministratore delegato di NIDEC Anzaldo Sistemi Industriali e presidente di Confindustria Anie, federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, ha visitato gli stabilimenti di Iesi. Una federazione che conta 1.300 aziende con 73 miliardi di fatturato e 450 mila addetti. In Italia, ha detto, bisogna recuperare competitività riducendo il costo del lavoro ed aumentando l'innovazione. La grande intuizione di IMESA, 14 anni fa, è stata investire nelle sedi estere dei paesi in via di sviluppo, come Brasile, Indonesi ed Emirati Arabi. Il settore elettrico ed elettronico ha risentito per tutto il 2012 una crisi spaventosa, che vedo ancora in continuità per il 2013. I primi tre mesi sono alcuni settori che hanno uno sviluppo e una crescita di lavoro, ma soprattutto a livello internazionale. In Italia il lavoro non esiste. La forza di IMESA, dunque, è duplice. La rete commerciale e la capacità di innovazione tra le realizzazioni ci sono impianti davvero innovativi. Si tratta di un quadro elettrico che riesce a collegarsi con la terra, quindi quando la nave arriva in porto non deve tenere i motori accesi per fare energia. Si attacca con una spina al porto e quindi i motori si spengono. Quindi tutto il porto naturalmente rimane senza quell'ossido di carbonio che sprigiona le macchine, i diesel, diciamo, che fanno energia. Parte allora da qui una serie di proposte al governo che si insedierà meno tassa alle imprese per permettere più investimenti, ma anche aiutare la politica di prossimità, permettere alle aziende di aprire sedi nei paesi dove il lavoro non manca.